Pastore bianco svizzero, pastore maremmana abruzzese, colli, border colli, pastore della Brie, pastore bergamasco, cane lupo cecoslovacco, sarlos, australian, cattle dog, pastore tedesco, pastore australiano, miniatura american shepherd, shetland, corgi. Allora, vediamo subito la selezione, bovaro delle fiandre, pastore maremmana abruzzese, australian cattle dog, shetland e miniatura american shepherd. Pastore bianco svizzero, grazie. Allora, vediamo adesso subito lo shetland. Siamo nel primo raggruppamento, troveremo sicuramente il primo finalista. miniatura american shepherd. Ok, è una delle ultime razze riconosciute dalla FICI e adesso vediamo l'Australian cattle dog, un bovaro in mezzo a dei pastori. Ok, proseguiamo con il pastore maremmano abruzzese. pastore bianco svizzero. e un altro bovaro, il bovaro delle fiandre. non 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 Allora, ci siamo al terzo posto, uno dei piccoli, shetland. al secondo posto, bovaro delle fiandre, vince Australian cattle dog. non 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 Grazie a tutti.